Gentile cliente, per facilitare il caricamento dei suoi documenti di identità, suggeriamo di predisporli come di seguito descritto. Il documento primario dovrà essere caricato distinguendo fronte e retro. Se l'applicazione chiede di caricare solo fronte, procedere con solo fronte. Del documento secondario, se richiesto, e della tessera sanitaria, dovrà essere caricato il fronte. Se l'applicazione chiede di caricare fronte e retro, procedere con fronte e retro. Per caricare il documento primario, clicchi su Seleziona fronte e carichi la facciata che mostra foto e dati. Clicchi su Seleziona retro e carichi il file. Clicchi su Carica file. Per caricare il documento secondario, se richiesto, clicchi su Seleziona fronte e carichi la facciata che mostra foto e dati. Clicchi su Carica file. Per caricare il codice fiscale, clicchi su Seleziona fronte e carichi la facciata della tessera sanitaria che mostra il microchip. Clicchi su Carica file. Per concludere la fase di caricamento, clicchi su Conferma. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.